Ed ora danza e movimento di coppia, docente di Mita Mangini. Siamo a Danza e Movimento 1 e 2. I corsisti uniti ci presenteranno alcuni balli con programmi liberi in un crescendo musicale. Inizieranno con un romantico balzer lento, danza nata in Austria e Germania a fine settecento. Servirà un balzer viennese, nato ai primi dell'Ottocento, conquistò re e regine che lo portarono alle loro porti. Passeremo poi al poxtrot, che nato agli inizi del Novecento ebbe rapido successo, con i suoi passi trotterellanti, lenti e veloci alternati, danza e trasmette immediata allegria. Infine, solamente i corsisti del secondo corso eseguiranno il Paso Doble, danza di origine spagnola dal ritmo coinvolgente, nata i primi anni del XX secolo. Grazie. 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 Poi ti incidi come sei, poi ti appassi giù, poi mi torni su, con le star per far vittà. Falla con la vita, come veda questa vita, pure senza età, la felicità. Falla con la vita, come veda questa vita, pure senza età, la felicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.